Questa città non è un museo, è lo slogan che accompagnerà la manifestazione contro il contributo d'accesso o, come preferiscono dire i promotori, il biglietto d'ingresso a Venezia che sabato pomeriggio si snoderà in corteo da Santa Margherita a Campo Manin. Un provvedimento bocciato sia dal punto di vista concettuale che pratico. Rappresenta un'idea di città, un'idea di città che è vista come un museo, un'idea di città che è vista come semplicemente un territorio da cui estrarre profitto Venezia come la gallina dalle uova d'oro. È un provvedimento tra l'altro per fare cassa male perché il regime delle esenzioni lo renderà praticamente inefficace ed è impossibile da applicare se non con delle misure da stato di polizia. La cosa più complicata è se uno è parente fino a terzo grado di un veneziano ed è stato invitato cosa tira fuori? L'albero genealogico per dimostrarlo? Secondo i promotori della manifestazione, che si presenta come totalmente civica e alla quale ognuno partecipa a titolo personale senza bandiere di partito o di associazione, esistono diverse soluzioni alternative al contributo d'accesso. Le migrazioni come i flussi turistici, questi fenomeni vanno governati, c'è bisogno di una capacità di governo che allo Stato è completamente assente. Queste misure non servono a risolverli e continuano a posticipare lasciando i cittadini sommersi da questa marea turistica. Noi non accettiamo come i cittadini che provvedimenti così gravosi che condizioneranno così fortemente la nostra vita quotidiana siano presi senza consultare i cittadini stessi. Quindi chiediamo un tavolo a cui noi siederemo per pensare insieme a come gestire i flussi, non semplicemente a farne cassa.